Quanti di voi vanno al cinema domani? Quando ti svegli la mattina? Alle sei e mezza. Quanto costa un caffè? Due euro e cinquanta. Quanti animali hai? Un cane e due gatti. Dove abiti? A Venezia? No, abito a Milano. Come te rovi i nuovi vicini? Sono simpatici. Quali libri stai leggendo ultimamente? Quanto stai in vacanza? Circa un mese. Chi conosci in quella scuola? Solo Luca. Quanta gente è venuta alla tua festa? Da quanto abiti qui? Da cinque anni. Qual è il tuo cibo preferito? La pizza. Che lavoro fai? Faccio l'insegnante. Quando hai finito la scuola? A diciotto anni. Gliel'ho detto ieri sera dopo cena. Non riesco a farglielo ammettere. Il progetto gliel'ho portato domattina. Se ti piacciono, te ne compro due. Il ladro non è riuscito a rubarmelo. Diglielo appena vi vedete domani. Se hai l'acqua, gliene dai un po'? Se me lo chiedesse, glielo direi subito. Hai guanti stretti. Non può toglierseli. Dicendotelo, mi sento già meglio. I libri me li darai domattina a scuola. Tranquillo, non devi preoccupartene. Di biscotti non ce ne sono più. Fateci trovare la macchina pulita. Glielo dico domani mattina. Questo è il cane di Giulio. Anna sta a Napoli da agosto. Sto per cominciare il lavoro. Il telefono è nel mio ufficio. Sto facendo le pulizie a casa. Tutti i miei amici sono in ferie. Questi biscotti sono buonissimi. Non voglio stare seduto qui. Fumare al cinema è vietato. Sto uscendo per fare la spesa. La gita sta andando molto bene. La mamma è di buon umore. Oggi sto ancora un po' a casa. L'auto non deve stare aperta. Siamo contenti per l'esame. State al caldo e non uscite. Dobbiamo stare attenti al cane. Luca è ancora in salotto. Le mie penne sono nello zaino. In casa si sta molto bene. Sono già stato in biblioteca. Chi? Chi non cucina, poi lava i piatti. Che? Mi piace il vestito che hai preso. Il quale? Luca, il quale è mio amico, è alto. Che? Ecco gli amici che mi aiutano. Chi? Chi vuole partecipare e si iscrive. L'uva, la quale è buona, fa bene. La quale? Ecco Lisa, la quale è molto bella. L'uva, la quale è qui fuori, è rotta. Qui? Luca, a cui ho detto tutto, è qui. Chi? Non mi piace chi è antipatico. Chi? So chi ha fatto questo dipinto. Che? Il cane che ti inseguiva è mio. Cui? Lei è Lisa, di cui so molto poco. Il quale? Vado dal nonno, il quale è a casa. Chi? Parliamo con chi ci ascolta. Che? Oggi c'è la festa che mi piace. Chi? Non ho visto chi è andato via. La quale? Lo dico a lei, la quale non sa nulla. Tu ti chiami Stefano. Quanti anni ha tuo figlio? Loro sono i miei amici. Mi piacciono gli spaghetti. Mio figlio va a scuola. Lui regala i suoi giochi. Voi venite a casa stasera. Noi abbiamo 15 anni. Noi facciamo i compiti per domani. Loro vogliono studiare qui. Io mangio una pizza. Non voglio andare al cinema. Qui a destra c'è il bagno. Come stanno i tuoi figli? Di che colore è l'auto? Possiamo giocare a calcio? Certo che potete andarci. Vanno alla scuola media? Perché non fate i compiti? Preferisco giocare a carte. Lei si chiama Claudia. A Napoli ci vado ad agosto. Domani ci svegliamo alle 8. Luca ci vede tutti i giorni. Claudia ci telefona stasera. L'ho sentito, ma non ci credo. Ci sono molti italiani a scuola. Ci vuole moltissimo tempo. Non ce la faccio più. 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 Appena svegli, ci laviamo. Voi ci avete invitati al mare. Luca ci ha dato un biglietto. Non ci capisco più niente Domani c'è molto da fare Ci vogliono più persone qui Ce la possiamo fare a finire? Maria leggeva un libro Io andavo al cinema Loro dormivano male Noi finivamo la visita Lui parlava di ecologia Cosa faceva Maria? Dove andavi? Dove andavate? Finivate il lavoro per oggi? Io camminavo Noi pensavamo Io mettevo Loro finivano Voi credevate Marco abitava a Napoli Tu non parlavi con Luca Tu avevi un'auto blu Come dormivano? Quando finivamo? Di cosa parlava? Tu mettevi via i soldi Italia Io sono italiano Germania Io sono tedesco Brasile Io sono brasiliano Spagna Io sono spagnolo Argentina Io sono argentino Stati uniti Io sono statunitense Francia Io sono francese Grecia Io sono greco Svizzera Io sono svizzero Marocco Marocco Io sono marocchino Regno unito Io sono inglese India Io sono indiano Romania Io sono rumeno Albania Io sono albanese Polonia Polonia Io sono polacco Messico Io sono messicano Russia Io sono russo Senegal Io sono senegalese Venezuela Io sono venezuelano Ucraina Ucraina Io sono ucraino Austria Io sono austriaco Serbia Io sono serbo Algeria Io sono algerino Belgio Io sono belga Colombia Colombia Io sono colombiano Olanda Io sono olandese Canada Io sono canadese Malesia Io sono malesiano Tunisia Io sono tunisino Corea Io sono coreano Turchia Io sono turco Bosnia Io sono bosniaco Perù Io sono peruviano Cile Io sono cileno Egitto Io sono egiziano Georgia Io sono georgiano Libano Libano Io sono libanese Slovakia Io sono slovacco Australia Io sono australiano Cecchia Io sono cieco Portogallo Io sono portoghese Slovenia Io sono sloveno Thailandia Thailandia Io sono thailandese Thailandia Io sono thailandese Conosco tutti qui Non conosco nessuno qui Lo faccio ancora Non lo faccio più Lui Lui canta sempre da solo Lui non canta mai da solo Ci vado spesso Non ci vado mai Parlo e scrivo bene Non parlo né scrivo bene Si mette sempre la giacca Non si mette mai la giacca Sai anche ballare Non sai nemmeno ballare C'è una casa in vendita Non c'è nessuna casa in vendita Mi piace molto Mi piace molto Non mi piace per niente So sciare e nuotare Non so né sciare né nuotare Riesco ancora a suonare Non riesco più a suonare Mi piace molto Non mi piace affatto Giovanni mi chiama ogni sera Giovanni mi ha dato la sua penna La sua amica ti ha telefonato Lui vuole che io ti chiami stasera La chiamo domani Le do il mio compito domani Mia sorella Gli telefona spesso Io lo conosco molto bene Ho visto Maria E le ho detto tutto Forse la chiamo stasera Quando ci venite a trovare? Ci dovete telefonare presto Vi devo dire qualcosa Non vi ho dato niente ieri Non li conosco molto bene No, non gli scrivo mai Non le conosco molto bene No, non gli scrivo mai Grazie a tutti ieri Grazie a tutti ieri Grazie a tutti.